Il boato, la vetrina che va in frantumi, gli infissi e la saracinesca danneggiati e la paura. Una bomba carta è stata piazzata e fatta esplodere davanti all'agenzia funebre La Piramide, al civico 18 di Viale della Repubblica, a Lecce, di fronte all'ex manifattura Tabacchi. Gli agenti delle volanti, subito arrivati sul posto, hanno effettuato i primi rilievi. I colleghi della squadra mobile hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Dopo la tregua nella raffica di attentati dei mesi scorsi, spari ed esplosioni in città e dopo le operazioni delle forze dell'ordine che hanno assicurato alla giustizia i personaggi implicati è il primo episodio che ha tutto il sapore dell'atto intimidatorio. Saranno le indagini a chiarire la dinamica e a scoprire movente e responsabili.